Centro ricreativo. Quanti dei nostri figli e nipoti lo frequentano d'estate? E se improvvisamente venisse bombardato? È successo in Ucraina, dalle parti di Odessa, sul Mar Nero. Missili da crociera russi, gli stessi che hanno devastato il centro commerciale di Kremenchuk, l'hanno colpito all'alba insieme a un condominio di nove piani. Almeno 18 i morti, tra cui due bambini. L'ennesima strage di civili, di innocenti. Dall'inizio della guerra, 128 giorni fa, sono 343 i bambini uccisi, 635 quelli feriti, secondo il lugubre conteggio della procura generale di Kiev. Uno scandalo che non smette di disgustarci, mentre tutto congiura perché questa guerra non finisca. Ha un bel dire la von der Leyen che l'Europa starà al fianco dell'Ucraina tutto il tempo necessario. Non ci riposeremo finché non prevarrete, promette la Presidente della Commissione europea al Parlamento ucraino, con cui stamattina era collegata in video. Zelensky l'ha ringraziata per l'avvio del liter di adesione all'Unione, mentre fa sapere che il suo paese comincia a esportare elettricità in Europa attraverso la Romania, per alleviare un po' la dipendenza dal gas russo. Da parte sua, il segretario generale della NATO Stoltenberg sostiene che l'Ucraina deve ricevere in fretta più armi pesanti, che rafforzeranno la sua posizione in vista dei futuri negoziati di pace con la Russia. Molto futuri, per come vanno le cose. L'esercito di Mosca non molla la presa sul Donbass. La battaglia infuria l'Isichansk, la città gemella di Seviero Donetsk. A Mariupol si scopre un'altra fossa comune con un centinaio di cadaveri. E poi i missili di oggi su Odessa. Gli uomini di Zelensky imprecano contro i russi per l'attacco sui civili e giurano vendetta. È una sporca guerra, come tutte.